Siamo Andrea, buongiorno Giulia Salvo, Stefano Cera sul cuscino di prima base per l'errore del terzo battito del Castenasu Prima occupata un'eliminata nel box di battuta, il numero 85, prima base, Andrea Sussan Prima la cipolla su Andrea Sussan, 1-0 Siamo a 2, ok? Siamo a 2, ok? Siamo a 2, è quello che ci dice? Sì, ma è vero avete la voto da Sussan e ci strike a casa base un uno grazie